Edifici, costruzioni, terreni abbandonati, pezzi di territorio sottratti alla pubblica utilità e lasciati al degrado e all'incuria, sia per responsabilità pubblica che privata. Il Comune di Napoli sta per approvare due atti fondamentali che riguardano la tutela dei beni comuni, quei beni come il territorio, l'acqua, la conoscenza, che appartengono alla collettività perché difendono i diritti fondamentali dei cittadini. L'apprensione dei beni privati abbandonati al patrimonio del Comune, saranno i cittadini dei vari quartieri a decidere la destinazione e poi dare norma, regole alle cosiddette case del popolo, alle esperienze di autogestione dal basso, valorizzare la partecipazione dei cittadini all'utilizzo del nostro territorio. Non c'è il rischio per chi possiede beni, c'è il rischio solo per chi ha abbandonato i beni privati. Poi c'è tutela invece per le tante esperienze della nostra città, penso alle esperienze di Mater Dei, di Bagnoli, del centro storico, dove persone, giovani e meno giovani, stanno da tempo facendo esperienze di utilizzo dei beni comuni dal basso. Quindi si riducono le distanze tra il mondo formale e il mondo sostanziale. La tutela dei beni comuni è un punto essenziale della linea politica dell'amministrazione De Magistris. Nel 2012 fu realizzata la trasformazione della società idrica cittadina in azienda di diritto pubblico, nel rispetto del referendum sull'acqua pubblica. La restituzione alla comunità di beni inutilizzati e abbandonati è un dovere ispirato dalla Costituzione, spiega il professor Maddalena, ex magistrato della Corte Costituzionale, perché consente a tutti di godere di un bene altrimenti sottratto inutilmente all'interesse pubblico. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. È una frase che è precettiva, cioè vale subito e significa non esiste tutela giuridica di un privato che avendo beni che esorbitano i suoi estretti bisogni necessari, licenzia gli operai, non persegue la funzione sociale, va a cercare maggiore profitto, delocalizza senza motivo eccetera. E tutto questo è contro la Costituzione. Con le due delibere, frutto del lavoro dell'osservatorio sui beni comuni, il Comune di Napoli fisserà i criteri e le procedure per attribuire il valore di bene comune a un bene pubblico o privato ricadente nel territorio cittadino. Applicare la Costituzione è l'unico mezzo per svincere la situazione attuale di crisi, che non è una crisi, è un predominio contro legge e contro Costituzione di poche persone. Grazie. 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 Grazie.